...con quattro penalità, l'unico errore commesso tra l'altro nella prima giornata di gara, in sella a Cassirado, uno stallone da Cassini, un errore il primo giorno e un doppio rito nella seconda giornata dei due percorsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.